benvenuti a tutti in questo nuovo video io sono diego di diego se lui è ciao lui è e lui dice ciao va bene scusate sono un po stango ho fatto la nottata perché io lavoro l'hanno ovvero è stato di aiutare già madonna sanno vado a farlo disse lui che ha preso scorpione che l'ha già il coso e io non mi ricordo i tasti però manco di ora lui si può attire trasportare ma io mi ricordi altro come era la mosso ma c'è un amico da una volta aspetta un attimo a bloccare e sono in giustizia la madonna un attimo per aiuto un amico tra i mostri ho proprio lo sgambetto ma è dato questa è la tua fine questa è la tua fine questa è la tua fine e poi guardate dice quello che sta per me e io perché non mi ricordo le cazzo di me ma finita sembra stessa un io mi ricordo come si fa il lampo e come disse il dio ma poi c'è rider dovrebbe essere da mossa fatality ma sono affedente mi occupa un dato che ti favo ma è rotto 34 di coperti cappello mi raccogli il cappello questa sera non sono una tira io non vivo senza il mio cappello la mia testa non può mai stare scoperta una volta gli avevo un cappello poi sono rimasta così ma poi mi è venuto il tic all'occhio se non mi sbaglio quando faceva sta mossa mia scoperta già venire il sangue dentro gli occhi alla persona che uccideva ai suoi occhi bianchi mi ricordo questo gioco mi ricorda molto un gioco che abbiamo fatto qualche giorno fa che nessuno si è cagato si era di supereroe non mi ricordo eh boh forse era malvercone però mi godi d'azzo un uomo qua ah io faccio niente ok ah è vero com'è che lanciamo ho trovato esplosino dovrebbe essere così guarda un attimo hai trovato no aspetta ca madonna se ti stai un attimo fe oh ora si io ti ho strappato io ti ho strappato il cuore dovessi essere teoricamente morto ma in teoria quello non è il cuore perché il cuore sta sotto non vuole e poi tu la puoi fare a razio ce l'hai fatto ce l'ho so troppo per te lo so no no che pale cioè mi fai troppo danno con un colpo però eh ho capito tutto se fosse la forza ma è meglio così ma che cazzo ti tiro o cugno te ne tiro due te ne tiro tre te ne tiro quattro e muore stavolta o muore stavolta o congelato vieni qua che hanno scogliato volo quanto è fallo sta personaggio ah che fallo poi dice la gente perché vuoi eh 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 per questo perché sennò mi fa sempre questa mossa è di lucula madonna no 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 vediamo la mossa da lontano se non vediamo la mossa da lontano ti posso far pazzo no no ho sprecato la fanali che chiusa camignotta camignotta no no madonna no finisci stavo vincendo porca mignotta ma hai proprio vinto vinto no ho sbagliato la vasta porca puttana non sono riuscita a fare la fatale che no gli stacco il cazzo c'ho la cura la tua testa ahahah 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 ahah ahahah ahahah ahahah